In questi giorni abbiamo letto di una maxi multa data a un ristoratore in piazza Oberdan, una nota pizzeria, una multa di 9.000 euro. 9.000 euro in questo periodo del covid è una follia. Dice perché cosa, che cosa avrà mai fatto questo ristoratore? Aveva occupato un'area, diciamo, un po' di più di quella che avrebbe potuto occupare con i tavolini. E uno allora immagina che cosa c'è in piazza Oberdan. In piazza Oberdan, oltre ai tavolini di questo ristoratore che servono per in qualche modo dare decoro e sicurezza alla piazza, ci sono solo ubriaconi e sbandati. Voi non intervenite e non dite nulla sugli ubriaconi e sbandati, ma andate a fare una multa di 9.000 euro ad un ristoratore in un periodo covid dove ovviamente le persone preferiscono stare all'aperto a mangiare, quindi ha bisogno di quei tavolini. E uno dice, beh, sarà stato un caso. E no, perché voi siete gli stessi che avete multato i ristoratori quando andavano a manifestare contro il governo, sempre voi. Per voi oramai è una cosa normale, a me lascia piuttosto perplessa, ma trovo proprio in generale vergognoso andare a incidere ancora una volta su chi ogni giorno alza la serranda. Ciao! 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 Ciao!